C'è il canale 5, eccoci collegati dalla Pudu Arena, qua si sfidano le due formazioni, la formazione gialla degli agenti immobiliari con la formazione blu, la formazione dei notai. Ecco, vediamo, attenzione, palla al centro, attenzione, pronti, via! Ecco, attenzione, subito vediamo sulla fascia, gli agenti immobiliari passa, ecco, vediamo, attenzione, il notai, ecco, il para, ecco, questo non ti dà niente da fare, ecco, rilancia, rilancia, incredibile, ecco, sottoporta il notai, la agenti immobiliari, 1-0 per i notai, e ci credo, quelli stanno lavorando, io invece sono fermo in casa, sono 1-0, ma recupererò, recupererò! Grazie a tutti!